A 15 anni dalla morte di Mario Luzzi, il Consiglio regionale della Toscana lo ha omaggiato inaugurando in Palazzo del Pegaso la mostra della sua collezione di opere d'arte appena acquisita. L'omaggio al poeta e senatore a vita è stato realizzato insieme al Gabinetto VSE, un lascito importante che permette di approfondire gli studi su Luzzi, ricostruendo le sue frequentazioni e le sue passioni artistiche. Quello che abbiamo fatto è stato un accordo con il figlio, con la famiglia e questo ci porta oggi nell'interesse generale e comune con la reciproca soddisfazione a sentirgli un bene pubblico che sicuramente finalizzeremo in un'area destinata al pubblico, probabilmente il Museo della Potoscana a cui io penso insieme alle foto alinari perché Mario Luzzi è il poeta simbolo di quella festa della Toscana di cui quest'anno abbiamo vissuto i 20 anni. La collezione conta più di 400 pezzi e oltre le opere d'arte ci sono blocchi di appunti, quaderni, libri con dediche di famosi scrittori e poeti del Novecento come Giuseppe Ungaretti e Mario Tobino. È un fondo prestigioso perché era molto generoso Luzzi nelle amicizie, quindi sono lettere di amici, non solo intellettuali o intellettuali che al tempo stesso sono amici. Abbiamo una collezione molto bella anche di fotografie fino agli ultimi anni della sua vita, quindi il periodo ermetico è molto documentato, ma soprattutto direi appunto l'ultimo periodo così fecondo anche dal punto di vista creativo di Luzzi. Luzzi morì a Firenze il 28 febbraio 2005 e in occasione del quindicesimo anniversario della sua morte è stata deposta una corona di alloro sulla sua tomba nel cimiterio di San Michele a Castello. Grazie.